C'è chi dà la colpa alla scarsa informazione e chi sottolinea la disaffezione dell'elettorato. Fatto sta che domenica non è stato raggiunto il quorum per il referendum sulla giustizia e dunque il voto non è valido. Anche la nostra regione si è allineata al dato nazionale sull'affluenza. Ieri è andato a votare il 20,72% degli aventi diritto, cioè 1.166.000 marchigiani. La provincia dove si è votato di più è stata quella di Macerata, con oltre il 26%, mentre quella con la minore affluenza è stata Ascoli Piceno con il 15,26%. Per quanto riguarda i cinque quesiti, ad aver raccolto più consensi è stato il terzo sulla separazione delle carriere dei magistrati per garantire più imparzialità e trasparenza nei ruoli. Ultimo la modifica della legge Severino, marchigiani alle urne anche per le amministrative previste in 17 comuni, tre dei quali nella provincia di Pesero Urbino. A frontino, grazie ad un'affluenza superiore al 72%, è stato eletto l'unico candidato in campo, Andrea Spagna. A tavoleto, il sindaco uscente Stefano Pompei ha trionfato con oltre l'80% delle preferenze, mentre a terre roveresche il primo cittadino Antonio Sebastianelli si è imposto sullo sfidante, l'ex sindaco di Barchi, con il 67,71%, pari a 2.032 voti.